Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Enzpo e oggi voglio parlarvi di un sito che ho scoperto da poco che mi sembra davvero molto interessante per ricevere un po' di bitcoin e per accumulare delle piccole parti di bitcoin ovvero chiamate satoshi. Il sito si chiama BitCashback e non è nient'altro che un sito che ci dà la possibilità di ottenere il cashback in bitcoin, quindi base a quello che noi andiamo a comprare riusciamo ad ottenere un cashback direttamente in bitcoin che poi possiamo prelevare sul nostro bullet, quindi davvero niente male soprattutto considerando che sono soldi extra che noi andiamo a recuperare e magari conserveremo quei bitcoin Eccoci qua ragazzi, siamo all'interno del sito di BitCashback, andiamo assolutamente con ordine perché ve lo voglio spiegare in modo dettagliato perché questo sito ha davvero delle buone potenzialità e soprattutto possiamo guadagnare come vedete qui in alto a destra, questo è il mio account, possiamo guadagnare delle piccole parti di bitcoin in modo totalmente gratuito facendo degli acquisti in modo intelligenti Vi faccio vedere io come l'ho strutturato, innanzitutto mi sono fatto un bel po' di preferiti questo così diciamo c'ho i siti che probabilmente io utilizzo spesso e che quindi invece di andare direttamente sul loro sito io vado prima sul sito di BitCashback e poi vado nel sito che mi interessava quindi in questo modo facendo questo passaggio io guadagno un cashback possiamo vedere abbiamo Temu, abbiamo quasi il 10% di cashback, Autodoc, Kinguin 1€, MediAward, Nike, Declaton, GameStop, G2A, Wish e questi qua sono quelli là che ho salvato per il momento in quanto credo siano quelli là che io possa utilizzare in modo più frequentemente e più facilmente ma di certo i siti disponibili non sono solo questi perché all'interno della piattaforma di BitCashback beh ce ne sono davvero tantissimi per ogni gusto, per ogni evenienza diciamo così possiamo vedere che il catalogo è diviso in diciamo settori possiamo vedere qui c'è casa, conti correnti e finanza, farmacie, gastronomia, high tech ed elettrodomestici, hotel, scarpe insomma è diviso davvero molto bene possiamo vedere che abbiamo anche telefonia e DSL quindi nel caso dobbiamo crearci una nuova sim oppure cambiare gestore possiamo passare qui e probabilmente guadagneremo delle buone parti di Bitcoin da accumulare vedete quanti negozi ci sono qui andando nella schermata tutti i negozi guardate qui c'è una quantità di negozi incredibile altrimenti se vogliamo poi fare una ricerca io primo ho cercato G2A perché in questo periodo mi interessava acquistare dei giochi per il mio PC beh lo possiamo fare tramite G2A quindi otteniamo l'1,40% di cashback in Bitcoin che non è assolutamente male comunque è un regalino che diciamo riusciamo ad ottenere superato poi questa parte abbiamo il nostro diciamo la nostra dashboard e qui possiamo vedere attualmente con il link che trovate in descrizione possiamo ottenere 2 euro di bonus di benvenuto quindi ragazzi io vi lascio il link in descrizione mi raccomando iscrivetevi tramite il mio link così aiutate anche me a raggiungere prima il prelievo in ogni caso appena vi iscrivete vi saranno regalati 2 euro in Bitcoin che saranno qui poi in basso e nulla ragazzi il prelievo si può fare a 10 euro e possiamo poi prelevarli sul nostro wallet in Bitcoin qui possiamo vedere la cronologia dei cashback che abbiamo fatto quindi il guadagno i pagamenti che abbiamo richiesto i token che servono a ottenere più cashback sul prossimo acquisto che scegliamo quindi in base a quanti token riusciamo ad ottenere insomma possiamo prelevarli oppure possiamo convertirli direttamente in premio come potete vedere qui ci sono il premio in euro ragazzi vi lascio il link in descrizione in modo da aiutarmi e ricevere subito anche voi il vostro 2 euro di benvenuto in Bitcoin e poi vi consiglio di fare proprio come ho fatto io vi consiglio di fare una lista di negozi preferiti in questo modo voi potete acquistare facilmente e velocemente già dai negozi che voi utilizzate di solito quindi facilissimo non lo so io ho segnato anche Nike perché mi piace acquistare la roba delle Nike e quindi io mi sono già segnato il loro sito in questo modo ce l'avrò sempre qui pronto senza perdere tempo cliccherò qui ottiene il cashback in automatico ci aprirà il loro sito e poi insomma acquistiamo quello che ci serve e entro tot giorni qui possiamo vedere attesa indicativa per l'approvazione 60 giorni quindi entro massimo 60 giorni ci verrà riconosciuto poi il cashback che in questo caso è di 2,80% quindi su una spesa di 100 euro ad esempio saranno 2,80 euro insomma ragazzi questo era BitCashback un sito che ho trovato veramente interessante che da oggi in poi inizierò ad utilizzare ve lo consiglio sicuramente anche a voi è un sito totalmente gratuito l'unica cosa che bisogna fare è avere l'accortezza di utilizzare prima BitCashback e poi continuare a fare gli acquisti che avevamo già in programma di fare io vi lascio il link in descrizione se volete potete aiutarmi con il mio canale in questo modo anche voi otterrete subito 2 euro di Bitcoin all'interno del sito io vi ringrazio per aver visto tutto il video e noi ci vediamo presto al prossimo video ciao a tutti ragazzi